Ciao, io sono Lulu e sono una nuova chef in camicia. Oggi vi porto in Trentino Alto Adige e prepariamo i miei canederli in padella. In una ciotola con del pane raffermo integrale tagliato a cubetti aggiungiamo il latte, della farina integrale, del parmigiano, del sale, del prezzemolo, della noce moscata, due uova e infine della cipolla precedentemente stufata. Mescoliamo bene, se il composto risulta troppo asciutto aggiungete un goccio di olio Evo, se invece risulta troppo umido allora aggiungete del pangrattato. Formate poi dei canederli e schiacciateli leggermente. Passiamo alla cottura in una padella con dell'olio Evo da entrambi i lati fino a doratura. Poi li mettiamo in una vaporiera e li cuociamo per altri 15-20 minuti. Impiattiamo con della verza, del parmigiano grattugiato, del pecorino, dell'olio Evo e siamo pronti per assaggiare. Fatemi sapere che ne pensate perché così buoni e leggeri non l'avete mai mangiati.